Sbrigati, Ravino, sbrigati, dai forza! Forza, forza su questi bagazzi, dai, muoversi, muoversi, forza che rischiamo di perdere la nave! Dai, dai, dai! Il Stoar de Babar, le petite elefante, nella grande foresta è nato un elefantino, il suo nome è Babar! Viva il re Babar, viva la regina celeste! Gridano in coro gli elefanti senza esitare, ed è così che Babar diventa re! Il re Babar e la regina celeste si pullano nella felicità. Per lungo tempo si ricorderà di questo grande Babar! Fine! Fine! Oh, mi scorda, io sono una sciatica! Io mangiavo barattoli di marmellata tutto spiano! Oh oh! E ora si vanno pazzi per la marmellata! Oh! E adesso cosa penso di farlo, eh? Chiese la signora Brown. Non lo so! Rispose l'orsetto guardandosi intorno. Eh, la situazione di Pendleton non assomiglia nemmeno un po' al mio Peru. Qui c'è troppa confusione e tutti sembrano avere una gran fretta. Qui c'è il corsetto più straordinario! Qui c'è il marmellata, basta il ragù e Pendleton che viene dal Peru! Non a molti orsi capita di vedere eseguita la propria musica in un concerto. Pendleton è una velotta e l'ha scoperto che se tenevano gli occhi sottiusi sembrava di essere ora la Royal Albert Hall. e se li stringeva forte e forte, riusciva ad ascoltare ancora la musica. Credo, disse mentre scivolava nel sonno, che da grande farò il direttore d'orchestra. Chi è l'orsetto più buffo del mondo? Chi è, chi è? Chi ha un capellone sul naso che ti bufala per? Chi fa sempre soltanto pasticci? Chi è, chi è? Chi è di doci un vero ghiotton? Chi pensa soltanto a mangiare marmellate, budine e vigne? Chi lo sa, chi lo sa? Chi è l'orsetto più straordinario?